Ecco Sindaco, si è completata con la scelta dei fedelissimi, insomma gli uomini che lavoreranno a stretto contatto con lei? Ma ovviamente una volta entrati in comune si è bisogno anche del proprio personale perché ovviamente ci sono molti dipendenti qui però c'è bisogno anche di uno staff che porti avanti quelli che sono gli obiettivi dell'amministrazione e il programma mio personale. E' logico che su questo il ragionamento che abbiamo fatto è stato quello comunque di contrazione delle spese come fin dall'inizio quindi tagliate le macchine, le due macchine, le auto blu che c'erano a disposizione anche se erano con contratto in noleggio però il contratto in noleggio costa di più anche dell'acquisto della macchina, comunque tagliate, spostati i due dipendenti autisti che anche questo era un peso insomma per il gabinetto del sindaco e degli assessori rinunciato al telefonino e al tablet, tagliato del 10% lo stipendio, eliminato tutta una serie di giornali quindi la stampa cartacea, sistemato il problema dei siti internet, tanti siti internet con poche utenze, con pochi contatti adesso siamo passati anche alla riduzione dei costi dello staff questo comporterà anche un netto ridimensionamento di tutto il settore del sindaco che aveva di tutto e di più, il settore immigrazione tornerà sociale io mi chiedo com'è possibile che un comune abbia un settore immigrazione di questa corposità ecco quindi sarà ovviamente ridotto a quelli che sono i problemi di una città legata all'immigrazione dopo ci saranno i problemi dei grandi eventi, li torneranno nel settore cultura cioè cercheremo di far quadrare che la piatta organica come deve essere cioè in maniera ordinata, lineare, i lavori pubblici con i lavori pubblici, l'edilizia con l'edilizia l'attività culturale con l'attività culturale e il gabinetto del sindaco, gabinetto del sindaco